Cello, cosa sta succedendo? È davvero un momento di svolta anche nella percezione di questa guerra? Ma a me sembra, Mirta, che sta succedendo una cosa che purtroppo fa parte delle guerre, cioè che le ritirate sono spesso più atroci, più spietate, più feroci delle avanzate. E quello che abbiamo visto a Buccia potrebbe essere questo. Però non ci mancano ancora degli elementi. Fa pensare a quello che fecero i tedeschi in Italia, fa pensare a una cosa come Sant'Anna di Stazema, solo per citarne una sola delle tante stragi che i tedeschi fecero mentre si ritiravano dal territorio italiano e nel tentativo di stroncare sul nascere la resistenza. Devo dirti che, ovviamente, condivido pienamente quello che tu hai detto. Bisogna avere delle prove, bisogna controllare bene. I nostri colleghi che sono lì lo faranno e poi potremo esprimere un giudizio, non dico definitivo, ma insomma un giudizio fondato su quello che è accaduto. Però un problema nasce perché se è il genocidio, come sembra, cioè se è una cosa che somiglia a Srebrenica... Sì, Margelletti ha parlato di polizia etnica con grande precisione. Sì, appunto, se è quello che ha detto Margelletti, è una cosa che allontana la pace, non la avvicina. Quindi, diciamo, l'eggiaculatoria sulla pace, per carità, si può continuare all'infinito, però quello che sta accadendo allontana la pace invece di avvicinarla e sembra portare a una svolta ancora più sanguinosa della guerra. Perché, per esempio, ti faccio solo un esempio, se si dovesse scoprire che questa strage di Buccia è avvenuta... Ma quindi tu cosa pensi, scusa, Marcello, che l'Occidente dovrebbe effettivamente arrivare all'embargo totale con la Russia? È la cosa che possiamo fare? Perché poi credo che... Ma quello, diciamo, quello è un altro argomento. Quello che io penso è questo. Pensa solo se si dovesse scoprire che a fare la strage a Buccia sono stati a fare questi assassini immotivati di gente legata con le mani dietro la schiena, con i piedi legati, fossero stati soldati occasionali e non lussi, contractors, gente non addestrata, gente che chiaramente fa quel mestiere perché, posso dirle in una parola, non ci sta sempre con la testa, insomma, e che quindi si diverte a esercitare la propria ferocia in modo esemplare. Pensa solo se si scoprisse questo. Ci sarebbe un'enorme responsabilità politica della Russia e nello stesso tempo un'occasione per Putin per difendersi, per dire sì, però non sono stati i nostri. Lui sta già dicendo che sono stati gli ucraini, perché lui dice sempre che sono gli ucraini come appunto... Gli scudi umani, quelle... Gli verticci... a suicidarsi. Però un'altra cosa che tu dici è il problema energetico. Sì, sicuramente, insomma, c'è un'accelerata verso l'embargo. L'autonomizzazione dalla Russia, l'embargo e poi l'autonomizzazione, perché chiaramente se tu fai l'embargo devi intanto assicurarti delle altre fondi energetiche. Se ti assicuri delle altre fonti energetiche, non è che te vi assicuri per il tempo dell'embargo, cioè devi fare un contratto che duri nel tempo. Lo sento male, scusatemi, sistemiamo un po' il collegamento di sorgi, perché lo sento attratti. Lo sento a trattare. Lo sento a trattare.